Francesca Chillemi e Khan Yaman sono davvero una coppia? Ecco la reazione dell'attrice su Instagram. Da settimane Francesca Chillemi e Khan Yaman stanno monopolizzando le principali riviste di gossip. Secondo gli esperti di Cronaca Rosa il sex symbol turco, dopo la fine della relazione con Diletta Leotta, starebbe frequentando una collega. Per un lungo periodo si è pensato che fosse proprio la Chillemi, con la quale l'attore sta girando la nuova fiction Viola come il mare. Erano stati anche paparazzati mentre uscivano dallo stesso palazzo di Roma dopo aver passato un weekend insieme. I due non hanno mai commentato i rumor. Poche ore fa però Francesca Chillemi ha pubblicato una foto nelle sue Instagram stories che sembra a tutti gli effetti una smentita. Nell'immagine ci sono il compagno Stefano Rosso, con cui è legata sentimentalmente dal 2014, e la loro figlia di 5 anni, Rania. Il cuore disegnato intorno alla foto non lascia dubbi. Sono una famiglia unita e le voci non avevano alcun fondamento. Quando c'è di mezzo Khan Yaman però, i pettegolezzi ormai sembrano scontati. Tempo fa era bastata una foto insieme alla modella Maria Giovanna Adamo, scattata alla sua festa di compleanno dal padre dell'attore Gouven Yaman, per scatenare le indiscrezioni sulla loro possibile storia d'amore. Grazie! 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 Grazie a tutti